Oggi proviamo a pescare con i Marshmell Oggi Marcello! Facciamo una bella pescata Vediamo se possiamo Pescherò a fondo semplicemente con un lombo Pescherò a camminare da un metro E' un metro e venti Mezzo Marshmello Facciamo un po' meno Facciamo una patina Funciono così Puliamo da un park Ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Devo dire che i marshmallow funzionano, sono anche buoni da mangiare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.